Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Scandici e Calenzano Sesto Fiorentino. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano a causa di una frana. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Per la giornata di oggi, proclamato uno sciopero del trasporto aereo di 4 ore, fino alle 14 potrebbero verificarsi modifiche alla normale attività dei voli. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!